Volevo abbozzare un piccolo ragionamento su un articolo che è comparso pochi giorni fa su fanpage.it che ho trovato in rete, in cui si dice, nel titolo, Libreria in crisi, oltre 2300 chiuse negli ultimi cinque anni. È la caporetto della cultura. Secondo il Presidente dell'Associazione Librae Italiani, sono 2300 le librerie chiuse negli ultimi cinque anni nel nostro Paese. Da tempo è firma in Parlamento una proposta di legge sul libro che potrebbe sostenere un settore in crisi. E intanto le librerie chiudono e si perdono posti di lavoro e si bruciano progetti di impresa. L'osservazione riguarda prima di tutto l'associazione che viene fatta tra la cultura e le librerie. Effettivamente le librerie come imprese, come occasioni di lavoro, sono o rappresentano la cultura. Ossia, la cultura, il libro oggi, passa soltanto attraverso la distribuzione che se ne fa nelle librerie? O c'è un sistema diverso, cioè si è evoluto il modo di fare cultura e di distribuire la cultura. E il fatto che la cultura poi non passi esclusivamente attraverso il libro, oppure non passi esclusivamente attraverso il libro distribuito nelle librerie, insomma. Questo è il punto su cui a me interesserebbe un attimo ragionare. Sta di fatto che, volente o nolente, il libro si sta smaterializzando. Cioè, sempre più si passerà meno al cartaceo, al libro fatto di carta, insomma, a quel libro che richiede tutta una serie di... Dalla produzione della carta, alla stampa, tutta una serie di fasi di preparazione per poi passare nella libreria dove verrà venduto, sempre più si sta smaterializzando e sempre più sta diventando un'altra cosa che viene fruita in forme diverse, in cui la carta perde in qualche modo il suo valore. Magari rimarrà per alcuni determinati libri, per alcune determinate categorie di libri, ma l'andamento, volente o nolente, è questo, quello dei tempi, insomma. Si va smaterializzando la struttura, la sostanza del libro, sempre più volatile, sempre meno ci sarà la necessità di luoghi di distribuzione particolari come erano le librerie. Ma anche le librerie sono andate cambiando negli ultimi tempi. La libreria come quel luogo dove il vecchio libraio aveva e poteva contenere quella quantità di libri e dove lui scambiava con lui le tue opinioni, le tue esperienze di lettura, lui ti consigliava attraverso le sue esperienze di lettura, dove si stabiliva un rapporto particolare tra l'utente e il libraio e dove era uno spazio che riusciva a contenere non una grandissima quantità di libri, ma trovavi spesso quello che cercavi. Non c'è più, le librerie stesse sono andate modificandosi, diventando grandi catene, grandi luoghi di distribuzione dove si vendono in maniera abbastanza anonima, insomma, come in magazzini, insomma. No, dove vai là, guardi, trovi una grande quantità di materiali a seconda della fascinazione della copertina o di quello che hai sentito dire o del consiglio dell'amico, cerchi quello che trovi, a volte no, a volte, invece come succede quando vai in un centro commerciale, in un magazzino, insomma, ti fai colpire dall'etichetta, ti fai colpire dalla copertina e magari compri quel libro quando hai voglia di leggere qualcosa, insomma. Quindi anche le librerie sono cambiate nella loro struttura. Dopodiché cominciano a diventare dei luoghi dove sempre meno si è invogliati ad andare perché sempre più si hanno delle alternative. La crisi di questi luoghi, di queste librerie, dove si vendono e dove i libri costano e dove dietro il libro cartazzo c'è una serie di interessi che si giocano, no? C'è tutta la questione dei diritti d'autore, degli interessi degli editori, di come gli editori poi si appropriano a una determinata categoria di interessi, di come li esercitano, di come poi li usano in modo successivo, di come poi spesso gli scrittori, diciamo, lasciamo perdere quelli famosi, quelli grandi, quelli che a un certo punto vendono migliaia, milioni di coppie e quelli riescono in qualche modo poi a guadagnare bene dalla loro... ma tutti gli altri piccoli scrittori spesso spendono senza poi vedere riconosciuto un minimo guadagno nel loro libro, insomma, no? Se poi vogliamo metterla in termini commerciali, ma quando si parla di cultura bisognerebbe anche trascendere per un po' il discorso strettamente commerciale. Allora, secondo me, anche le librerie sono andate di per sé modificandosi. Certo, nel momento in cui il libro cartaceo perde valore e non è più necessario tutta quella catena, tutta quella serie di passaggi che portano il libro, insomma, dalla sua concezione, dall'essere pensato, poi l'essere tradotto in pagina, in tomo e poi essere distribuito nella libreria, questi passaggi adesso cominciano a essere non più necessari quando il libro diventa un file e quando questo file poi può essere distribuito tramite internet e quindi può essere immediatamente, con tempi senza muoversi di casa, può essere immediatamente scaricato sotto forma di e-book. Questa situazione riguarda sia l'utente che invece di recarsi in libreria può direttamente trovare il file, scaricarselo e poi leggerselo oppure può chiederlo direttamente, può trovarselo a casa anche in forma cartacea ma andando direttamente al computer e scegliendosi, trovando immediatamente il titolo che gli serve e poi vedendoselo ricapitare direttamente a casa. Quindi la forma di distribuzione è cambiata, insomma, come è cambiata o sta cambiando per tutta una serie di altre entità merceologiche, insomma, no? Perfino il vestito uno se lo ordina in internet, su Amazon e poi solo vedere capitare a casa. Questo bene o male rappresenta un vantaggio. Poi c'è da dire che la gente si sta impoverendo, no? Soprattutto quelle categorie, insomma, no? La media borghesia che era quella che più leggeva, insomma, perdeva il tempo a leggere e usava il tempo a leggere a meno soldi per comprare libri. Una delle proposte che fanno di Librae, insomma, sarebbe quella di impedire gli sconti, insomma, di ridurre gli sconti che si fanno. Quindi, insomma, alla fine dovrebbe spendere sempre di più. Per comprare il libro cartazio proposto nella vecchia maniera e quindi ha meno disponibilità economica e si può comprare l'e-book al posto del libro e spendere meno probabilmente lo fa. Molti si possono andare in biblioteca, nelle biblioteche comunali e trovare il libro che cercano, averlo in prestito gratuitamente, il tempo necessario per leggerlo, lo fanno, preferiscono farlo, soprattutto quelli che leggono molto e che quindi dovrebbero comprare molti libri. E poi c'è anche tutto un mercato dell'usato, no? Se si può trovare il libro che si cerca, soprattutto i classici, insomma, no? Se si può trovarlo in un mercato dell'usato, dove invece di spendere 20 euro ne spendi due, è chiaro che lo si fa. Biblioteche stesse, non so, qui da noi, per esempio, in autunno, quando si celebra la festa della biblioteca, si mettono in vendita una quantità notevole di libri che la biblioteca non ha più lo spazio neanche di immagazzinare e gli si vendono a un euro l'uno, insomma, no? La gente si accalca e va a comprare i libri. Quindi non è vero che non c'è l'interesse per il libro, sì, forse c'è meno interesse per la lettura, però c'è anche un aspetto economico da considerare, ma che si cerca, perché, diciamo, le risorse economiche sono diminuite, soprattutto per quelle fasce, diciamo così, che riguardavano coloro che leggono, di procurarsi il materiale in modi più economici. Andare a comprare il libro in libreria ha un costo che spesso molta gente che vive di risorse limitate non si può permettere e, per fortuna, sono presenti anche delle alternative. Quindi le biblioteche sono una buona alternativa. I luoghi dove si possono comprare dai mercatini, a mercatopoli, a queste vendite che vengono fatte anche nelle biblioteche, insomma, no? Sono dei luoghi dove si possono acquistare a un prezzo accettabile, buono, anzi, insomma, ottimo a volte, libri, i classici soprattutto, insomma, libri che non sono più il libro del momento. D'altronde i libri del momento si bruciano così rapidamente che anche un libro di pochi anni diventa un qualcosa che poi passa in un altro mercato, no? Quindi la vita del libro appena uscito, della novità libraria, insomma, è molto breve. E poi dobbiamo riconoscere che esiste anche un futuro legato all'audiolibro, insomma, il fatto che si si sta abituando, si sta iniziando ad abituarsi sempre di più al libro invece che a leggerlo, ad ascoltarlo. Quindi a sfruttare anche i momenti della vita, quando si va in macchina, alla sera prima di addormentarsi e così via, in cui diventa bello ascoltare, riempire tempi morti, ascoltare storie, insomma, ascoltare libri letti, letti da voce. Tutto questo però, diciamo, non dice che c'è un caporetto della cultura, cioè che perché le librerie chiudono la cultura sia defunta, dice che il modo tradizionale di proporre la cultura che si esprime nei libri sta cambiando. Ci sono altre forme in cui il libro si presenta, forme più virtuali, forme che hanno meno bisogno di un supporto cartazzo, insomma, più volatili, più liberi, in cui il libro può essere consumato. E si cerca un modo più economico, insomma, per arrivare alla cultura. E d'altronde è giusto, no? È giusto arrivare ad avere cultura spendendo meno, perché la cultura dovrebbe essere un bene che è per tutti, no? Non soltanto per chi ha i soldi per andare in libreria a comprarsi i libri. E allora dobbiamo slegare questi due concetti, insomma. La libreria non è sinonimo di cultura, insomma, non è... E quindi il fatto che le librerie chiudono, secondo me non è sinonimo che ci sia un caporetto della cultura. si cercano altre forme. Parlo sempre della cultura che vede come strumento fondamentale il libro, no? Ci sono altre forme, stiamo cercando altre forme per diffondere cultura attraverso i libri che non siano quelle della libreria dove i libri si vendono a prezzo pieno. Ovviamente questo comporta una perdita, chiusura, insomma, chiusura di libri e quindi una perdita di denaro da parte di chi investe o aveva investito in queste attività. Quindi una riduzione del lavoro. Però entriamo in un altro settore, non più nel settore della cultura, entriamo nel settore delle attività economiche, cioè una trasformazione di un'attività economica. Allora, da questo punto di vista, l'impresa che vedeva i propri interessi, i propri guadagni, editori, librai e così via, in questa forma, in questa attività economica legata alla presenza, alla catena delle librerie, alle catene, librarie, insomma, così deve trovare un modo alternativo di business se vuole riconvertirsi in qualche modo. Perché, da quel che mi risulta, invece, come dire, Amazon e altre grosse catene riescono a vendere. insomma, c'è un proliferare abbastanza vivace di scrittori che producono opere e che cercano, poi, lì sulla qualità c'è anche da discutere, ma, insomma, però, c'è, come dire, c'è la... ormai la tendenza chiara di superare l'antica forma, l'antico legame con il vecchio editore e di arrivare a produrre con le forme di auto-publishing, insomma, le proprie opere, di metterle in vendita direttamente attraverso attraverso altri distributori, insomma, no? Amazon, uno di tutti, insomma, i quali ti possono vendere direttamente l'e-book oppure, una volta che tu vuoi il cartaceo, ti stampano quella copia e poi te la spediscono direttamente. Quindi una forma molto più veloce, non c'è più bisogno di produrre mille copie di un libro che poi ti rimangono a casa in venduta, insomma, ti riempiono uno scaffale e di investirsi quando il libraio e quando l'editore, insomma, ti snobba a investirsi migliaia di euro, insomma, non puoi provare a fare il tuo libro con una spesa molto più modesta e mettere il tuo e-book e farlo vedere in una vetrina molto più ampia di quella che può essere in una libreria dove magari arriva solo in quella della città e il distributore non lo distribuisce, insomma, tutti i problemi che chi si è confrontato con la scrittura conosce. quindi è un altro modo di vendere, un altro modo di essere nel mercato. E poi c'è tutto, insomma, secondo me c'è tutta la novità dell'audiolibro, insomma, che volente o non volente si sta diffondendo, si è diffuso molto di più in America, ma in Italia sta prendendo piede, sta prendendo piede sotto vari modi, tanto è vero che molti stanno o tentano di dedicarsi, insomma, alla lettura di audiolibri, insomma, sempre più narratori, si presentano nel mercato, sempre più si cerca di fare audiolibri e Amazon lo sa bene perché, insomma, hanno inventato queste, come chiamarle, queste catene, Audible e poi Storytel, eccetera, dove dove ci si abbonano e dove si possono, come dire, pagando una cifra mensile, si possono ascoltare in streaming tutti tutti i libri che si trovano e ne propongono sempre di più perché poi chi scrive, chi produce audiolibri poi automaticamente non riesce più a venderseli da sé e deve andare a proporli a sua volta ad Audible e quindi entrare in quel gioco, ecco. Ovviamente, come dire, se il gioco è questo, è questo, è questo, cioè la realtà fa sì che sempre più grossi distributori o sempre più distributori che agiscono tramite la rete a questo punto si impossessano della gran parte del mercato. Però, stiamo parlando di mercato, insomma, i libri comunque si vendono, no? Cioè, se la gente ascolta l'audiolibro, se la gente compra l'ebook, vuol dire che acquista a un prezzo più basso, poi tra l'altro sotto forma in cui anche l'ebook magari si riesce a scambiarselo magari tra amici, eccetera, insomma, ci sono tanti strumenti più o meno leciti, insomma, che permettono di scambiarsi, insomma, anche il libro, per cui magari più persone rispetto a quello che l'hanno comprato riescono a leggere quel libro. Non è detto che la cultura non circoli, insomma, non è detto che ci sia veramente questa caporetto, cioè una caporetto che riguarda il business delle grandi librerie o delle piccole medie librerie, perché sono quelle che saltano per prime ma poi saltano anche le grandi, che non vendono più, insomma, e anche in qualche modo probabilmente anche degli editori, insomma, che non avendo più questi luoghi di distribuzione fanno più fatica a stampare, a produrre libri. ai quali però si sostituiscono probabilmente altri editori che invece riescono a produrre invece che il libro di carta i book, insomma, ci sono comunque delle figure professionali delle competenze che ci vogliono anche per produrre i book e quindi insomma il mercato sta un po' sta un po' cambiando. Tutto quello che invece riguarda i classici spesso come dire, lo si trova nelle biblioteche comunali gratuitamente oppure nei mercati dell'usato oppure in audiolibri insomma, no? E quindi ci sono questi altri strumenti nonostante nonostante tutto esistono queste protezioni del mercato cioè esistono ancora dei freni dei limiti che vengono posti per cui quando tu devi leggere o vuoi leggere un libro e lo vuoi postare per esempio su youtube e tu devi aspettare 70 anni dalla morte dell'autore cosa che io reputo assurda insomma, Perché certo, se c'è stato anche del lavoro intellettuale dell'autore è giusto che finché è in vita ne traga guadagno diamogli anche 10 anni per gli eredi però poi basta no? 70 anni è un assurdo voglio dire vuol dire lasciare agli editori un terreno di guadagno una libertà di uso di quel materiale secondo me è in debita insomma in debita perché neanche per le aziende farmaceutiche esiste così insomma che hanno speso magari per il brevetto di quel farmaco un grande hanno fatto un grande investimento anche le industrie farmaceutiche dopo un certo tempo ma abbastanza breve credo sia 10 anni non sono sicuro ma poi insomma l'uso di quel brevetto poi viene meno e la sostanza può essere poi commercializzata attraverso farmaci generici non più senza quindi più i limiti posti da chi ha inventato il brevetto allora ci si trascina dietro ancora queste queste catene questi vincoli che che tengono bloccati in maniera in debita proprio la diffusione della cultura no? guarda caso allora si parla di caporetto della cultura perché vengono meno le librerie ma si mantengono certi vincoli certe catene che riducono la possibilità di distribuire cultura sotto altre forme ma allora se vogliamo la cultura se è la cultura che ci interessa dobbiamo liberalizzarla il più possibile insomma fare in modo che questo arrivi in qualunque forma a tutti a tutti insomma al maggior numero di utenti possibili e quindi dobbiamo in qualche modo non si può svingolarla completamente ma cercare di ridurre il legame tra cultura e economia insomma tra business e cultura e invece si cerca ancora di tenerlo molto forte insomma questo legame cioè il business che c'è sotto diventa ancora diventa ancora forte e questo danno per esempio di tutti quelli che cercano di fare cultura adesso cioè nel senso che cercano di scrivere dei nuovi scrittori insomma dei scrittori quelli che esordiscono come scrittori cioè non dico dei scrittori affermati ma quelli che vogliono diciamo proporre i loro libri e che si affacciano al mercato dell'editoria e questi scrittori hanno dei grossi limiti insomma fanno molta fatica a a farsi conoscere ad affermarsi a a vendere cioè a ricavare qualcosa dal 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 loro prodotto intellettuale perché prima devono comunque spendere e poi non si sa se rientreranno con le spese se riusciranno a fare qualcosa no perché poi sono molti no allora come dire il tentativo di fare della cultura riguarda molte persone molte persone si affazzano e vogliono scrivere libri e proporre poi i loro libri no e questi trovano invece dei limiti obiettivi proprio negli editori proprio in nei costi che devono che devono spesso sopportare per poter far conoscere poi no mettere in vendita e poi soprattutto far conoscere il prodotto in modo che qualcuno lo possa acquistare e quindi ci sono no delle incongruenze no quando si parla di cultura non si separa bene il mercato dalla dalla cultura ho la mia idea che ho già detto in un altro video la mia idea sarebbe quella che le cose non sono non devono essere completamente gratuite ma dovrebbero avere un costo minimo libero se noi crediamo in un libro in un prodotto culturale dovremmo essere disposti a pagarlo un minimo quello che ci sentiamo insomma di dare un contributo ma che questo contributo poi vada direttamente a chi lo produce insomma a chi l'ha fatto saltando tutta l'intermediazione insomma no saltando il più possibile l'intermediazione non è possibile saltarlo completamente ma insomma saltando il più possibile l'intermediazione in modo tale da dare la possibilità poi a chi l'ha prodotto di come dire di di produrne un altro insomma di lasciargli la motivazione di continuare a a fare a produrre cultura sei in grado di produrre cultura quindi non abituarsi a ad avere tutto gratuitamente avere tutto gratuitamente vuol dire come dicono insomma molti quando quando in rete tu hai gratis un prodotto un servizio insomma vuol dire che lo paghi con te stesso sei tu poi l'oggetto che ti metti in vendita quando compri quel prodotto quando è gratis ma insomma lasciare un libero contributo quando si accede al quando si scarica qualcosa insomma un libro supponiamo da un un audiolibro un libro dalla rete insomma la possibilità di dare minimo contributo con la garanzia che questo contributo insomma vada a chi l'ha prodotto insomma e questo su questa linea secondo me bisognerebbe un po' concentrarsi cioè trovare delle modalità trovare insieme delle modalità tra tra chi scrive tra i narratori non lo so una editoria più intelligente che mette a disposizione delle piattaforme poi in cui poter proporre questi libri e averli liberamente poterli scaricare liberamente insomma con un contributo libero insomma però educando la gente in modo tale che sappia che un minimo contributo va dato perché è quello che poi rende possibile il continuare ad avere un'offerta altrimenti se si hanno delle spese poi come dire non si rientra nelle spese chiunque chiude insomma e quindi anche questa forma che potrebbe essere una forma più democratica insomma più libera perché lascia il pagamento libero è un'offerta volontaria insomma come quella che fai come l'elemosina che fai quando vai quando vai in chiesa insomma nessuno ti viene a contare quanto quanto metti nella borsa però quella l'elemosina magari serve insomma a comprare insomma quello che quello che serve per l'andamento della chiesa lo dico da uno che non va in chiesa comunque ma è così cioè non possiamo pensare alla gratuità assoluta perché chiunque produce cultura ha dei costi e quindi questi li deve sostenere però come dire da questo si passa poi all'assurdo che ci sono che so io degli scrittori che insomma che magari valevano non sono mai stati riconosciuti e non hanno percepito una lira ma hanno avuto solo costi dalle loro opere e ci sono scrittori che invece non so se usciamo dalle scrittori non so canzonettisti parolieri che vivono a distanza di 50 anni vivono da nababbi perché hanno scritto il testo di una canzoncina insomma no oppure perché hanno scritto due note di una musichetta che ha avuto popolarità magari al festival di Sanremo ecco si passa a delle assurdità cioè ha delle differenze che sono troppo troppo grandi io vedo in questo insomma un futuro possibile però non è un futuro che possa andare da solo ci vuole una cultura dietro bisogna creare una cultura dietro insomma ed è quella di sfruttare la libertà che ci offre la rete di mettere in rete direttamente prodotti della cultura smaterializzati ovviamente e di lasciarli scaricare liberamente però dietro la responsabilità di chi li scarica di fare un'offerta libera secondo le sue possibilità ovviamente di pochi soldi molto meno di quello che gli costerebbe quel libro comprato in libreria parlo di libro ma vale per per anche altri prodotti culturali che si possono offrire e vendere in questa maniera e quindi lasciarlo ad un'offerta libera offerta libera che vada direttamente a chi ha prodotto il bene in modo tale che lui possa diciamo continuare poi a produrne gli altri avere come dire avere la disponibilità minima per per fornirsi anche lui del materiale che gli serve per continuare il suo lavoro per poterne mettere poi altro in rete e così via insomma cioè si dovrebbe formare un circolo in questo modo per cui tutti quelli che mettono a disposizione le opere di cultura ma anche quelli che mettono a disposizione gli strumenti per produrre le opere di cultura e così via e tutto è collegato ecco in modo tale che ci sia questa questa libertà questa gratuità questa diffusione possibile gratuita del bene cultura però con una come dire gratuita ma diciamo con la responsabilità di chi la prende gratuitamente di lasciare anche un suo obolo una sua offerta volontaria una piccola offerta che messa insieme a tante altre permette poi la sopravvivenza di coloro che producono i beni culturali questa potrebbe essere un'alternativa insomma in modo tale che la scomparsa del business dell'azienda libreria che secondo me ormai è insita nel DNA cioè le librerie andranno sempre più scomparendo non del tutto ma se salverà qualcuna particolare molto più specializzata e così via di cose che non si possono magari mettere in rete o che non si possono smaterializzare completamente però insomma l'andamento è questo insomma e e nello stesso tempo anche le grosse catene insomma no quelle collegate direttamente a Feltrinelli Rizzoli insomma agli editori anche quelle più o meno insomma verranno riassorbite riorganizzate si 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 metteranno anche loro nel business di Amazon o dei grandissimi distributori insomma e la gente insomma troverà sempre più comodo insomma anche man mano che le librerie vengono a diminuire insomma guardare i cataloghi da casa e poi ordinarsi il libro che gli viene recapitato a casa insomma oppure trovarlo trovarlo usato anche anche nei siti ebay il destino mi pare segnato si tratterebbe però di come dire di affrontarlo con intelligenza e di organizzarsi cioè di non lasciare libero lo strapotere a a questi a questi giganti insomma no della rete e vedere cosa si può produrre di alternativo che possa invece garantire a chi produce ancora i beni culturali che ha voglia di produrre ce ne sono tanti lo vedo anch'io insomma no poi con con capacità e con possibilità non sempre uguali non sempre non sempre le opere diciamo il libro considerato come opera di cultura è sempre ha sempre un valore garantito insomma ci sono libri e libri insomma ci sono scrittori e scrittori ma insomma lasciando a tutti la possibilità di confrontarsi poi con il pubblico e di mettere a disposizione le loro opere in pubblico però si tratta di riorganizzare questa questa cosa insomma questa distribuzione questa produzione in modo tale che non ricada che non si vada per forza a finire come sembra ormai siamo destinati in questa fase soltanto nelle mani delle delle grandi catene di Amazon un po' in particolare insomma che sempre di più diventano dei dei monopoli che riescono a riassorbire tutto perché poi alla fine si finisce là il destino insomma è questo però insisto sul fatto che la caporetto delle librerie non è la caporetto della cultura ci sono tante forme alternative che stanno emergendo si tratta però di valorizzare queste forme alternative di farle di farle vivere nel fatto che queste forme alternative trovino una loro organizzazione un loro spazio più democratico insomma meno monopolistico insomma di come sta succedendo di come sta succedendo saremo capaci non lo so certo se non siamo capaci le conseguenze le subiremo noi insomma però questo dovrebbe essere il terreno di discussione secondo me e magari fatemi sapere il vostro perere saluto il vostro